2013 grazie a tutti ti sei divertita? tantissimo sei stata bene con noi? tantissimo il prossimo anno sarà tuo il compito ovvero quello di togliere la colonna e lo scettro e passarla a Miss Medica 2014 giusto? allora in bocca al lupo per questo anno 2014 fine 2013 e inizio è fine 2014 perché avrai un sacco di cose belle da fare un sacco di crescita vivile sempre con il sorriso hai un sorriso bellissimo voi non le vedete gli occhi perché vi giuro che se poteste vederle gli occhi sono indescrivibili sono di un colore blu azzurro fantastico allora io ti faccio fare ancora una camminata un applauso alla vincitrice di Miss Medica 2013 un applauso alla bella Alice Lofaro allora Alice ecco tutti i bacini io allora vi faccio concludere questa magnifica giornata con una passerella e poi ci ripetiamo il prossimo anno ok? prego un applauso a tutte le concorrenti di Miss Medica 2013 grazie chiamiamo anche le Miss degli anni precedenti dove sono? dove sono? Miriam sì grazie mille grazie ancora le Miss allora Alice rimani rimani ancora qua eh facciamo le prime tre eccole qua adesso poi te le mando a fare una foto anche abbassatevi un po' ragazze ecco te le faccio fare a loro però eh e mentre le Miss degli anni precedenti dove sono? allora chiamiamo anche la nostra bellissima Miriam chiamiamo no no ma state state eh sì e voi dovete stare tutto il tempo adesso sul palco perché vorranno farvi delle foto insomma questo adesso è il vostro compito eh allora facciamo anche un grandissimo applauso io ciao oh ma no 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 oh